Proseguono da parte di ANAS le attività necessarie ad attuare e le prescrizioni della Procura di Arezzo per la riapertura parziale del viadotto Puleto sull'Ai45. Il provvedimento, notificato sabato scorso, consente ad ANAS di riaprire al traffico ai soli veicoli leggeri fino a 3 tonnellate e mezzo su una sola corsia per ogni senso di marcia a velocità ridotta. L'aria apertura è inoltre condizionata all'installazione di un sistema di monitoraggio automatico della struttura tramite sensori a ripristino delle opere di regimazione delle acque sulla piattaforma stradale all'installazione di un autovelox. L'allestimento della segnaletica di ristringimento della carregiata da 4 a 2 corsia in fase di ultimazione nello stesso tempo è in produzione la segnaletica di preavviso per la deviazione dei mezzi pesanti sui percorsi alternativi. Inoltre è in corso il montaggio del sistema di monitoraggio con sensori radar delle strutture. Il sistema è già funzionante e in corso la taratura da parte dei tecnici specializzati per il collegamento con i semafori che potranno interrompere il traffico automaticamente in caso di anomalie. L'ultimazione dell'attività è prevista entro giovedì. Per il monitoraggio visivo periodico sono stati già eseguiti alcuni voli con i droni sulle parti della struttura meno esposte. Infine per la reggimentazione delle acque di piattaforma sono allo studio alcune soluzioni di veloce esecuzione che consentano di attuare le prescrizioni nel minor tempo possibile. Il completamento delle attività richieste dalla procura è previsto entro la settimana. Nello stesso tempo sono in fase di avvio anche i lavori di manutenzione programmata già previsti nel piano ANAS di riqualificazione dell'E45 appaltati nei mesi scorsi e consegnati a dicembre all'impresa esecutrice per un investimento di 2 milioni e mezzo di euro. Lo stesso provvedimento della procura di Arezzo consente infatti anche al personale dell'impresa l'ingresso dell'area del viadotto sequestrato. Dalla giornata di lunedì sono in corsi i lavori per l'allestimento del cantiere e la realizzazione delle piste di accesso. L'intervento riguarda il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell'opera, il rifacimento delle solette e l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza. La durata dei lavori è di circa 200 giorni. Grazie.